Di sera o in luoghi poco illuminati si moltiplica per i non vedenti il rischio di non essere visti. Ora è nato a Trieste il primo bastone bianco con segnalazione luminosa a LED, per garantire ai ciechi una maggiore sicurezza e autonomia, proprio in caso di scarsa luminosità. Si chiama Letty Smart Luce, è adattabile a qualsiasi bastone per ciechi ed è prodotto dalla SCEN SRL, sempre di Trieste. Per i non vedenti una piccola rivoluzione e un grande aiuto. La presentazione in un incontro al caffè Tomaseo con l'inventore, il presidente dell'Unione Cecchi Trieste, l'ingegner Marino Attini. La tecnologia permette per la prima volta a un non vedente di essere visto, cioè c'è una segnalazione luminosa che non è una semplice luce ma è controllata da un microprocessore che durante tutta la giornata segue tutte le attività della persona che utilizza il bastone e analizza l'ambiente e le luci che ci sono. Ho avuto la grande fortuna di poter realizzare questo sogno, che peraltro ho dedicato in memoria di mia moglie che si chiamava Letizia, anche per quello si chiama Letty, mi piace dirlo. La seconda parte di questo sogno sarà il prossimo anno con Letty Smart Watch, cioè una parte che sostituiremo sempre sul nostro bastone e che permetterà al bastone attraverso un sistema vocale di parlare, quindi di darmi tutte le informazioni che la città ci mette a disposizione. Il bastone luminoso sarà presto nei negozi e nelle sedi dell'Unione Cechi, il presidente della società che lo commercializza, Diego Bertocchi. Dà il segnale con tre bip, due bip e un bip se la batteria è più o meno carica e alla fine senza pulsanti e senza fili la luce quando viene ripiegata si spegne.